Oggi vi mostro il mio nuovo setup da streaming. Bella a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati qui sul canale di Pringiluca. Prima di cominciare vi ricordo che se non l'avete ancora fatto dovete assolutamente iscrivervi al canale, attivare la campanellina, lasciare un bel like e dare un occhio a tutti quelli che sono i link che trovate qui sotto in descrizione per seguirmi anche su altre piattaforme, come ad esempio il canale Viola. Detto questo direi di non perderci in ulteriori chiacchiere e andare a vedere tutte quelle che sono state le migliori o che ho portato al mio setup per fare delle streaming veramente al top. Quello che cercavo all'interno del mio setup per fare delle streaming sia su YouTube che sul mio canale Viola era quello di avere un bellissimo retroscena. E beh, alle vostre spalle c'è tutto quello che di solito vedete all'interno dei miei video. Infatti io di solito ultimamente non stavo portando alle mie spalle quello che era il mio setup, il mio desk setup, bensì quello che era il mio angolo dedicato a tutta quella che è la mia produttività e tutto quello che è l'ossoraggio dei miei accessori. E quindi ritengo che questo sia un perfetto angolo per andare a visualizzare qualcosa di carino durante le streaming. Quindi ho deciso di spostare la scrivania che prima era posizionata di sotto della finestra alle mie spalle che come potete vedere guadagna un look molto più clean perché su una parete tutta bianca con una scrivania bianca guadagna questo look clean minimal veramente molto affascinante e quindi ritengo che in quella posizione sia un'ulteriore posizione veramente gradita per fare delle streaming e per avere anche un retroscena veramente al top. Inoltre mi darà la possibilità di creare dei setup veramente molto carini come ad esempio questo per fare ulteriori video. Prima non mi piaceva più di tanto avere la finestra esattamente alle mie spalle quindi mi precludeva anche la possibilità di registrare video durante la giornata perché come potete vedere da questa finestra entra veramente tantissima luce e non vi lascio immaginare se apro anche questa siamo veramente al massimo livello. Entra veramente tantissima luce all'interno di questa stanza e quindi avere un setup davanti alla finestra per poter registrare dei video beh era assolutamente fuori discussione. Adesso però la smetto di farvi una testa così vi porto con me a vedere tutti quelli che sono stati i miglioramenti che ho fatto al mio setup. Quello che ho provato a fare è dare un senso un po' più carino come potete vedere questo e il retroscena che vedremo all'interno dei miei video a tutto quello che è il mio setup. Ci sono delle chicche che voglio mostrarvi molto molto accuratamente in modo tale da mostrarvi al meglio tutto quello che sono state le modifiche che ho apportato al mio setup. Allora come potete vedere la cassettiera è stata spostata da questo lato e da questo lato trovo a posto il solito cavalletto. Come potete vedere è stato ridimensionato anche un po' il tutto perché la cassettiera è stata spostata tutta sulla destra in modo tale da recuperare spazio qui in modo tale che possa appoggiarci ad esempio cose e recuperare spazio sotto la scrivania che come potete vedere è veramente molto molto comodo avere più spazio al di sotto della scrivania. Lì c'è il cavalletto e c'è un po' di casino come potete vedere perché adesso vi mostro quello che è il setup da streaming. Come potete vedere qui trovo a posto questo apparecchietto qui una testa di Joby, del Joby GorillaPod al di sotto c'è un semplicissimo treppiedi dove praticamente posiziono la cam perché mi piace un'inquadratura molto dal basso e quindi ho deciso di posizionarla in quella posizione. Da quest'altro lato molto provvisoriamente c'è il mio microfono uno Shurl che mi dà la possibilità appunto di registrare l'audio durante le mie streaming ma vorrei acquistare un braccio da magari posizionare qui dietro molto molto comodo e come potete vedere è molto clean, molto pulita la postazione qui sopra come vi dicevo prenderanno spazio queste che sono due mensolette molto molto carine. Le casse sono ancora provvisorie perché mi mancano i cavi per collegarli alla scheda audio che effettivamente è arrivata eccola qui, molto molto bella della Behringer e devo dire con la quale mi sto trovando veramente molto molto bene. Qui c'è il mio PC che ovviamente dovrà essere sostituito il case perché per chi mi conosce da un po' sa benissimo che sto lavorando al progetto di un nuovo case da realizzare proprio io e questo è tutta la mia postazione veramente molto molto clean. Ovviamente è retroilluminata dalle Philips Hue Alexa imposta Philips sul rosso. Eccole qui, Philips Hue lì dietro c'è una barra specchio che trovava posto anche all'interno del mio vecchissimo setup e lì un quadro molto molto carino. Come sapete il mio setup è veramente molto modulare infatti in questo momento è in setup per quanto riguarda macOS la tastiera Bluetooth, mouse Bluetooth e trackpad che mi dà la possibilità con le gesture di interagire al meglio con macOS ma come voi sapete io utilizzo anche Windows e quindi ho deciso di prendere un secondo tappetino eccolo qui che ve lo mostro qui al volo molto molto comodo che lo stendo sopra e mi dà una scivolabilità sopra la superficie veramente perfetta in modo tale da giocare veramente al meglio. Togliamo questo da qui e voglio mostrarvi un'ulteriore cosa allora guardate un po' il cable management beh ragazzi non c'è nessun cavo veramente un cable management perfetto per quanto mi riguarda sono super soddisfatto da questo cable management a parte per questo cavo del microfono qui che vabbè però è principalmente provvisorio perché posso tranquillamente staccarlo e ogni volta che devo fare la streaming quindi veramente perfetto potrei andare a nascondere la scheda audio è una cosa che sto pensando ma mi è veramente molto comoda avere tutti i controlli del gain e tutto il resto qui sopra quindi sono ancora indeciso su come procedere in ogni caso mi sto trovando veramente molto bene con questo setup vi mostro anche la mia nuova sedia che mi dà la possibilità di essere veramente molto comodo durante le mie streaming durante il mio lavoro al mio pc insomma è veramente perfetto vi mostro anche come posso modulare tutto quello che è il mio setup rendendolo veramente unico e dandomi la possibilità di creare anche dei b-roll delle clip che magari vi mostro in qualche video veramente molto molto clean pulite e fresche vi raccomando se non mi seguite venite a trovarmi sul mio canale viola vi ho annunciato anche ieri che ero in streaming ad esempio e beh potete trovarmi lì sul canale viola classico pringiluca trovate il link qui sotto in descrizione in modo tale da vedere effettivamente come rende tutto questo setup all'interno dei miei video per quanto riguarda la scheda di acquisizione beh io la tengo all'interno di questo cassetto dato che la mia eccolo qui la mia postazione è principalmente per registrare i video e per lavorare e poi si adatta anche a quello che è lo streaming quindi ho deciso di tenerlo posizionato all'interno di un cassetto e quando mi serve piccola chicca ho una prolunga che mi porta direttamente il video qui molto molto comoda scheda di acquisizione che è una di quelle che mi ha consigliato il buon TechZio che ringrazio molto molto carina devo dire che funziona abbastanza bene non amo la qualità che rende perché beh distorce molto quello che è la qualità video della nostra camera ma devo dire con la quale per il momento posso andare bene ragazzi spero che il video vi sia piaciuto vi raccomando se così è stato lasciate like iscrivetevi e attivate la campanellina vi raccomando date un occhio anche a tutti quelli che sono i link che trovate qui sotto in descrizione perché ci sono tanti link utili come ad esempio tutto quello che riguarda il mio setup e altre cose del genere inoltre ci sono tutti i miei social come ad esempio Instagram dove sono veramente tanto ma tanto attivo e quindi vi raccomando andate a seguirmi anche lì detto questo io vi ringrazio noi ci vediamo prossimamente sempre qui sul mio canale YouTube ciao ciao Grazie a tutti.